La ruota della vita rappresenta l'evoluzione all'interno del samsara, evoluzione o involuzione? Ma che cos'è intanto la ruota della vita? La ruota della vita è a livello macro il ciclo di molti nei vari reami ai quali siamo soggetti, quindi la rappresentazione del samsara. All'interno di una vita stessa rappresenta la sequenza di eventi che ci capitano e le motivazioni per cui ci capitano questi eventi. Ma andiamo per ordine. Perché noi esistiamo, tra virgolette, in questo samsara, quindi in un mondo di sofferenza? La radice di tutto è l'ignoranza. L'ignoranza di che cosa però? L'ignoranza di una corretta visione della realtà, cioè che tutti noi siamo vuoti di esistenza intrinseca, l'universo è vuoto di esistenza intrinseca e quindi siamo tutti interdipendenti. L'ignoranza anche sulla legge del karma, sulla legge della causa-effetto. Quindi sulla base dell'ignoranza gli esseri umani agiscono, gli esseri umani o gli esseri sensenti in generale, non soltanto umani, agiscono. Queste azioni generano una formazione karmica. Karma significa appuntazione. Questa formazione karmica lascia un'impronta nel nostro continuum mentale della coscienza. Un'impronta viene lasciata proprio su ciò che poi si riproduce di vita in vita. La coscienza è un po' come potremmo dire il terreno fertile nel quale si mettono i semi del karma. E questa coscienza, una volta che è stata inseminata col karma, genera una realtà psicofisica. Quindi qua avviene un atto creativo. Questa realtà psicofisica prende il nome di nome e forma, perché il nome è la realtà psichica, la forma è la realtà fisica. E quindi c'è un atto creativo fondamentalmente. Nel momento in cui c'è questa realtà psicofisica ci sono le porte sensoriali. Le porte sensoriali sono i mezzi con cui entriamo in contatto con questa realtà psicofisica. Esiste poi, diciamo, una coscienza sensoriale, quindi oltre ai sensi esiste una coscienza sensoriale che si definisce contatto, il modo con il quale interpretiamo la realtà. E alla fine ne abbiamo una sensazione, che può essere un piacere, una sofferenza, una sensazione neutra, che è un po' il risultato, diciamo, delle formazioni karmiche. Ma nel momento in cui c'è una sensazione, cioè piacere e sofferenza, si ha un desiderio, un desiderio di essere felice, di continuare a essere felice, una brama, un'energia. Questa brama, cioè questo desiderio genera una sorta di attaccamento alla materia, che può essere esprimersi proprio con il senso del possesso, oppure anche con l'avversione per tutto ciò che ci ostacola, ci impedisce di andare avanti. Questo attaccamento genera un qualcosa di nuovo, un divenire, un divenire che si concretizza poi in uno stato di nascita, che può essere una nascita di una nuova vita, ma all'interno di una vita stessa può essere la nascita di un'amore, la nascita di un'amicizia, la nascita di qualunque cosa. E nel momento in cui c'è nascita c'è subito invecchiamente morto, perché nel momento in cui nasce qualunque cosa, in quello stesso processo momento, questa qualunque cosa morirà. Quindi abbiamo tutte queste sofferenze, se vogliamo eliminare la nascita e la morte, se vogliamo eliminare la morte e dobbiamo eliminare la nascita, andando a ritroso vediamo che per uscire da questo ciclo dobbiamo eliminare l'ignoranza e quindi sostituirla con la saggezza, che è il suo opposto. La saggezza di una corretta visione della realtà, nell'ignoranza, eliminare l'ignoranza vuol dire anche eliminare tutti i veleni mentali, e quindi chi elimina l'ignoranza, gli esseri che eliminano l'ignoranza non è che non agiscono nel mondo, agiscono ma non producono formazioni karmiche, quindi seguendo tutta questa ruota, che poi spiegata più in dettaglio queste ruote, queste cose si intrecciano fondamentalmente, una con l'altra. È come quando faccio girare una fiamma velocemente, non capisco più qual è l'inizio, qual è la fine, è tutto un continuo. Diciamo che nella ruota della vita noi esseri sensenti siamo intrappolati dal tempo, quindi uscire da questo ciclo vuol dire uscire fuori dal tempo, che non vuol dire perdere un qualche cosa o diventare qualcosa che non siamo più, ma vuol dire liberarsi dalla sofferenza, quindi liberarsi dai veleni mentali, e liberarsi dall'ignoranza, che significa agire ma non produrre più karma e quindi non produrre più tutta la catena di sofferenza. La catena di sofferenza poi si concretizza nella sensazione, che certo può anche essere piacere, ma dove c'è il piacere c'è anche la sofferenza, quindi si elimina questa situazione duale. Il samsara, se vogliamo, è questo ciclo, è uno stato interiore, perché poi se andiamo al nucleo di tutto questo è lo stato interiore che produce, come ci dice anche la fisica quantistica, la realtà, cioè la coscienza che materializza una realtà. Il samsara è proprio questo ciclo, noi giriamo in questo ciclo e i luoghi dove si manifesta il samsara sono i reami, che possono essere reami umani, ma anche animali o di altra natura, insomma. Il buddismo prevede gli inferni, tanti tipi di inferni, poi il regno degli spiriti famelici e anche degli dèi e dei semidei, che però tutti questi hanno le loro limitazioni, insomma, e la limitazione è quella di essere all'interno di questo schema samsarico che è uno schema interiore, dal quale possiamo uscire. La condizione umana permette di uscire, ma deve essere un qualcosa che va perseguito, va compresa la morte come trasformazione per uscire proprio fuori, diciamo, da questo ciclo. Bene, per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo. Ciao!